È buono, posso dire che è buono con i volontari, caramente il nostro test diciamo oltre agli nostri istruttori sono anche le passeggiate con i volontari. È un cane senza dubbio che va dato a una famiglia o a una coppia che comunque abbia nozioni su come trattare questo tipo di cani. Si chiama Tango ed è un doberman di circa un anno, ad ospitarlo il canile comunale di Via della Cella ed adesso cerca una famiglia che possa adottarlo e prendersi finalmente cura di lui. Tango secondo me potrebbe essere adatto a una famiglia, non magari con bambini perché poi ci sono delle paure che il cane sente, avverte e quindi poi sono negative sulla famiglia. Però sicuramente una coppia di persone sarebbe un cane che veramente potrebbe dare tantissime tantissime spiegazioni. Poi venendo qui in canile, previo appuntamento e parlando con Alessio, lui sicuramente saprà individuare e anche indirizzare l'adozione giusta. Anche tantissimi pitbull che arrivano qui in canile con delle storie a volte anche dolorose. Molto dolorose. Questo è un nuovo impegno che vorrei prendere come EMPA insieme a tutto il Consiglio e di combattere questo fenomeno proprio di pit dilaganti. Perché dilagano questi pit in Arezzo? Non solo comunque. Perché ci sono tante nascite clandestine, quindi tanti pseudo piccoli allevamenti che immettono poi queste cucciolate in maniera del tutto illegale. I più non sono cippati o se sono cippati hanno chip difficilmente riconducibili. Quindi abbiamo visto da questi ultimi giorni anche pit con interventi non proprio leciti. e quindi sì, io credo che serva una maggior rete con le amministrazioni pubbliche, soprattutto con la ASLE, per far sì che questo problema dei pit sia contenuto. Non dico comunque il pit deve essere cresciuto in un allevamento riconosciuto e dato poi quindi ceduto a persone che sanno gestire questi cani.